Porca vacca. Allora è vero, è qui. Wow. Victor Sullivan, benvenuto a Ubar. Incredibile. È così che la città è riuscita a prosperare. Questo posto deve essere collegato a una sorgente sotterranea. È pulita. È incredibile che funzioni dopo tutti questi anni. Davvero impressionante. Cosa? Ti prego. Falli. Ok. 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 Grazie a tutti. 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 Talbot, torna qui, l'urido figlio di puttana! Sei morto! Mi hai sentito? Sei morto! Torna qui, brutto! Torna qui, brutto! Torna qui, brutto! Dove è andato? È impossibile. Dove cazzo sono? Dove cazzo sono? Questa è Cartagena? non venivo qui da quando era un'altra... non veniva qui da quando ero un ragazzo. Non venivo qui da quando ero un ragazzo. Che succede? Oh, merda! Oh no! Oh no! No, no, no. Oh, no! Cosa? No, 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 no! Cosa? No! Fattene, ti prego. Oddio. Tutto. Si muove tutto. Devo andarmene. Devo andar via. No, no, no. No! Non ce la faccio. Che cos'è? Che succede? Ho, no, no! Non c'è uscita, non tu. Sono qui. Devo ucciderli! Avete ucciso Sally? Non l'avete ucciso Sally, mamma mia! Potteniamo! Non so, non so. Non c'è, non c'è capta. Non c'è capta! Un lo so, no! Non c'è capta! Femini di fuoco. Fuoco purissimo. Non è reale. Fuoco purissimo. 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 Sully? Sully? Sully! Hey, Sully! No, no, lui è... Sully, io... Io... No, no... Sully? 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 Quello cos'è? Che cosa? Ma che? Oh mio Dio Oh mio Dio Eccoli là Eccoli là